Ottime notizie per il Comune di Pordenone, il quale si è giudicato un finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro, grazie ai quali potranno essere realizzate delle importanti strutture sportive e ricreative nel quartiere Rorai Cappuccini, consentendo alla città di essere sempre più bella e funzionale. Il Comune di Pordenone si è giudicato un finanziamento di 2 milioni e mezzo che gli consentirà di fare manutenzioni all'impianto storico del velodromo Bottecchia per un milione di euro e con un milione e mezzo realizzare una palestrina polifunzionale al servizio della comunità che abita attorno a Largo Cervignano e zone limitrofe. È molto importante perché quella zona era effettivamente povera dal punto di vista dell'impiantistica sportiva e ci sono tantissimi ragazzi che abitano in quella zona, soprattutto nei compendi delle case popolari. Questo significa da un lato poter ridare splendore ad una struttura storica della città, il velodromo Bottecchia, che tra l'altro viene molto utilizzato per la pratica sportiva e potrà ampliare anche l'offerta cicloturistica che oggi è molto richiesta e dall'altro lato, ripeto, crea una struttura sportiva con delle funzioni di carattere sociale. È evidente che stiamo vivendo una fase, una stagione molto particolare dal punto di vista economico e finanziario. Questi sono soldi che arrivano dallo Stato, che abbiamo vinto attraverso dei bandi. Lo dico perché? Perché molta gente mi chiede ma perché il sindaco spende soldi per gli investimenti, per le edilizie, per le strutture e non magari per mettere più soldi per aiutarne le bollette, perché purtroppo non si può fare. Quindi quando si vince un bando, quei soldi vanno utilizzati per realizzare quell'opera, e in questo caso mi sembra anche una bella notizia, e non si possono trasformare in soldi per la parte corrente per le bollette. Noi speriamo ovviamente che per quanto riguarda il momento di difficoltà che stanno avendo imprese, famiglie e anche i comuni, ci siano presto delle misure di carattere risolutivo da parte del Governo nazionale e da parte del Governo europeo. Nel frattempo noi procediamo spediti nei cantieri per i quali abbiamo lasciato i finanziamenti per consentire al Porto di noi di essere sempre più bello e più funzionale. L'opera completa sarà progettata tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo. Andrà in appalto nel 2023 e dovrà essere conclusa entro marzo 2026.